Ciao, siamo un gruppo di rimbalditi e vogliamo fare una cover molto conosciuta di Gianna. Gianna sosteniamo di essere stupida. In questa occasione vi adesso di suonare degli strumenti molto conosciuti e molto belli e pieni di felicità e armonia. Allora qua abbiamo Sofia che suona il pianoforte. Classico, pianoforte. Poi qua abbiamo Daniele che suona la chitarra. Ci abbiamo Gianluca che canta con uno strumento che si chiama Katsu. Quello. E poi io che suono un ukulele. Facciolo a sentire un ukulele perché non si sente tanto. Siamo pronti per suonare. Vai. 1, 2, 3, 4. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.